Capo alla terza, lo sto dicendo con tante ore di anticipo, montando al fegato questo è l'unico per esempio, i fuggini scarsi per sempre, i fuggini scarsi per sempre mi fa diventare. Ha qualcosa di utile. No, ma meno male che ci sei tu, perché se... Beh, viaggio allucinante, però. E a caccia di bus, a caccia di fermate, però... Eh, no, non ti do l'arco, è possibile. Il mio rotello, se lo ricordo. Non me lo ricordavo. Non c'è, no. Un po' bello. Viaggio, ma c'è, perché c'è... C'è il suo amico. Non ti ho preparato, non ti ho capito. 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 Ma chi è da l'inizio? Ciao! Ciao! Aspetta, sto facendo il filmato. È lontanissimo il ringo dai tuoi... Qui ci sono gli spogliatoi. Qui ci sono gli spogliatoi. Adesso. Dagli un po' e l'otto. Mi dessa. E l'allezio mi dà l'ignor. Che in, non? Non si, non non è forte. Il tuo. È il tuo. Ma si intra, no? Un po' e l'altro. Ma questo... Il tuo. Il tuo. Il tuo uomo è l'unica. Sono un po' stretto, infatti io pensavo, hanno scelto gli dati di qua. Stasera non ho spogliatoi, è troppo lontano. Basta, vado sto ring, ho il percorso per arrivare al ring, quindi credo che per stasera dagli sfogliatoi non potrò fare altro perché è troppo lungo, a meno che non ci sia un K.O. che la parte che mi dia il tempo di tornare agli sfogliatoi. Vi ho disfarmiato tutto il tragitto. E' pronto anche l'altro. Del team, Loreni di Trasport, al suo debutto, Dario Morello! Fuori in secondi. Fuori in secondi. E' l'inizio della prima ripresa. Ol три Val, gu Pack. Ho voi rоче, del одного. Vado dite! 아이� neuronale Altre Fuori inнакомö Lui Lui No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no non fatti le gare non fatti le gare non fatti le gare subito il passo indietro andò seguilo 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 via lavora lavora 2 passi 3 alcuno azione puntando destra vai via lavora c'era vai che 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 a passato di su quel cancio di destra ehi ora lavora ehi 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. . a tutti. 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 l'inizio. a tutti. 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 a tutti.